Gentili telespettatori, buona giornata. La ONG Medici Senza Frontiere, con la sua nave Geo Barents, che è stata sequestrata per 20 giorni dalle autorità italiane per non aver fornito delle informazioni richieste dall'Italia riguardo l'ultima missione, la Medici Senza Frontiere, questa ONG, vuole passare alle vie legali. Stiamo valutando con il nostro team legale la legittimità di questa misura e eventuali azioni legali da intraprendere. E la legittimità c'è, perché il decreto legge, che era già assolutamente in essere da 60 giorni, viene definitivamente convertito in legge dal Senato, dal Parlamento. Quindi oggi quelle regole delle ONG sono legge dello Stato. Pertanto vedo un po' dubbio che il team legale stia valutando la legittimità, legittimità da legge, no? E certo è una legge, quindi per forza che è legittima. Ma loro ci provano, visto che hanno sempre denunciato, non loro, ma tutte queste ONG, chi prima, chi dopo, hanno fatto ricorsi al TAR, ricorsi legali, denunce. Ricordiamoci che Medici Senza Frontiere è una ONG finanziata dal governo francese, dove il governo francese è stato molto chiaro. Come il governo tetesco, che finanzia la Sea-Watch. Anche loro danno milioni di euro a queste navi per andare a fare questo lavoro. Ma sia Germania che Francia sono stati molto chiari. Noi vi diamo i soldi, ma se vi azzardate a tornare indietro con una nave carica di clandestini, voi avete finito. Quindi li portate in Italia, ma tranquilli, noi poi facciamo la redistribuzione volontaria. Siamo gli unici due paesi in Europa che volontariamente facciamo la redistribuzione. E così queste ONG dicono, ah, eh, beh, sì, avete ragione, caspita, certo che vado in Italia, ci mancherebbe altro, voi fate la redistribuzione. Ma che è questa redistribuzione? E prendono qualche decina di persone in un anno a fronte di 105.000 arrivi in Italia, loro prendono qualche decina di persone, così loro a posto. Noi finanziamo le ONG, perché siamo tanto buoni. Finanziamo le ONG che li portano in Italia, poi noi ne prendiamo pochi, così ogni tanto, però sulla carta noi siamo tanto buoni perché diamo i soldi alle ONG e poi prendiamo anche volontariamente i clandestini, quindi una roba da venire i brividi solo a raccontarla da quanto sono buoni. E così la nave viene sanzionata a 10.000 euro 20 giorni, anche se io ricordavo che in questo decreto legge avevano tolto i 20 giorni, le hanno passate direttamente a 60 giorni e poi la confisca, invece no. 20 giorni, se questa Geo Barents verrà beccata un'altra volta a non fare quello che dicono le regole, verrà sequestrata per 60 giorni, alla terza volta verrà confiscata, cioè tolta la proprietà, avvocata allo Stato che poi ne fa quello che gli pare. Pertanto loro andranno per vie legali, come al solito, però questa volta non credo che abbiano nessuna possibilità di avere un risponso positivo, perché nessun giudice può dire la legge italiana è illegale, perché è legge dello Stato, quindi non può un tribunale dire no, la ONG ha ragione, non può essere sequestrata per 20 giorni, perché quel sequestro si riferisce chiaramente alla violazione di leggi italiane appena appena approvate, quindi non c'è nessun giudice che può dire che la legge italiana è illegale, non può. Pertanto non credo che possano realmente fare, possono fare una denuncia, però a quel punto il giudice poi dovrebbe addebitargli anche il processo, le spese legali e tutto quanto, perché insomma va bene le denunce, ma quando sono infondate non vanno bene. La contestazione è che non sarebbero stati condivisi i dati del VDR, Voyage Data Recorder, richiesti a Geobaren, subito dopo l'assegnazione del porto di Ancona. Questi dati, dicono medici senza frontiere, hanno lo scopo di fornire in una forma sicura e sempre disponibili, informazioni riguardanti la posizione, il movimento, lo stato fisico, il comando e il controllo di una nave nel periodo che precede segue un incidente marittimo. Le informazioni memorizzate nel VDR devono essere utilizzate, secondo le normative vicenti, in una investigazione successiva ad un incidente marittimo. Il soccorso dei 48 naufraghi non rientra in questa casistica ed è per questo che il comandante non ha attivato questa procedura, ma ha condiviso come sempre tutte le altre informazioni relative alla missione. Sì, ma il comandante non ha condiviso delle informazioni che la legge italiana richiede, quindi vuol dire che hai violato la legge. Sì, quelle informazioni si danno solo in certi casi, ma la legge italiana dice che quelle informazioni tu le devi dare, perché il governo vuole essere sicuro di cosa è successo. Capisce a me? Perché se il governo italiano da quelle informazioni vede che a un certo punto tu prendi e fai una rotta e vai a incontrare un'altra nave e poi quelle due navi si allontanano, significa che è un appuntamento in mare. Non so se ci siamo capiti. Quindi quei dati servono alle autorità italiane per verificare che non ci sia stato un appuntamento in mare con gli scafisti, ma che sia stato un vero salvataggio. Ecco, qui è il punto. Why? Perché il comandante non dà queste informazioni? E poi, questa Geo Barents, che è la quarta volta o la quinta volta che arriva dopo che è stato fatto questo decreto sulle ONG, le altre volte non ha mai dato queste informazioni? Se non le ha mai date come questa volta, perché solo oggi viene sequestrata e non tutte le altre cinque volte? Ecco, questo è il punto. Visto che non è una nave nuova, ma è una nave che continua ad arrivare, perché solo questa volta viene fermata? Forse perché si voleva comunque fare in modo che questa nave venisse sequestrata dopo la definitiva legge approvata dal Parlamento e non prima, quando era solo un decreto legge? Ecco, forse questa è la risposta. A voi le conclusioni. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.